Va bene, va bene. Che cosa va bene? Se qualcosa va male, il calcolo probabilistico è da tener conto. Mani che si muovono dentro di me. Noi? Noi non siamo nessuno. Noi siamo tutti. Io non posso parlare per noi. Io sento odio per quello che siamo. Non è perduta di quello che si muovono. Non è perduta di quello che si muovono. Non è perduta di quello che si muovono. Noi non si muovono. Non è perduta di quello che 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 si muovono. Sì, 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 sì.